Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà un ulteriore aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteorologiche estive ma anche con temperature non eccessivamente alte, quindi situazione a mio parere ottimale. Come nuvolosità poco da segnalarvi, il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso in tutta Italia e quindi anche come precipitazioni non capiterà nulla di particolare, situazione davvero molto tranquilla in tutta Italia, un pochino di vento sarà presente al sud, quindi in definitiva ci attende un martedì con tanto sole da nord a sud, qualche annuvolamento a ridosso delle zone montuose ma null'altro, temperature diurne indieva aumento ma nella norma si starà davvero bene, al primo mattino però valori frizzantini al centro nord. Con questo è tutto, per dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.